Ci schecca all'ananas, fresco, cremoso e dal gusto esotico. Tritate finemente i biscotti con lo zenzero candito, potete non metterlo. Unite il burro fuso e mescolate. Foderate di carta forno alla base di uno stampo, versate i biscotti e compattate. Ammollate la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. Lavorate il formaggio spammabile, la ricotta e il zucchero a velo fino ad aggiungere una crema liscia. Scaldate il succo d'ananas e scioglietevi la gelatina strizzata. Aggiungetela alla crema, mescolate e unite 4 fette di ananas a dadini. Versate la crema sulla base di biscotti, livellate e ponete in frigo per 2 ore. Trittate le fette di ananas sciroppato e passatela al setaccio. Mettete in ammollo la gelatina in acqua fredda e nel frattempo scaldate il succo d'ananas. Unite la gelatina strizzata e fatela sciogliere. Unite la succo d'ananas e lasciate incepedire. Versatela sulla base fredda e in frigo per 6 ore.